Il premio Kakuri è in una fase itinerante, oggi è a Crotone ed è sicuramente una grande attenzione per la nostra città. Certo che lo è, a parte che sto rilasciando un'intervista a chi è stata per la prima edizione al premio Kakuri, ci conosci da tanto, da quando eravamo proprio bambini, camminavamo col girello. Adesso siamo diventati grandi celli, abbiamo sentito l'esigenza di spostarci al di fuori del giardino pubblico, stiamo cercando di scoprire il resto della regione, iniziamo da quella città che c'è più vicina di chiunque altra, più di chiunque altra perché è qui che l'estate attingiamo tantissimi crotonesi che vengono a trovarci e a gustare il tentativo di proposta culturale che facciamo ogni anno. Michele, Crotone è una città importante dal punto di vista culturale, nella tua mente immagino da quanto tempo stavi pensando di poter far arrivare anche qui il premio Kakuri, visto l'importanza che rappresenta per la nostra terra, insomma ci sei riuscito? Ci sono riuscito, innanzitutto ringrazio gli organizzatori del premio del terreno di Kakuri che hanno creduto in questo progetto, io da sempre ho creduto anche in questo progetto, da quando sono 11 anni che si svolge il premio del terreno di Kakuri, da quando si è presentato, ecco ho visto subito questo forte interesse di queste persone che pur abitando fuori dalla nostra regione avevano intenzione, avevano questa grande volontà di fare qualcosa di importante, qualcosa di importante di culturale. Allora ecco mi sono sentito subito in dovere di poter sposare questo progetto, come diceva Roberto ormai dopo tanti anni è nata una fratellanza tra di noi perché veramente sono tanti i progetti che abbiamo portato avanti, il premio è cresciuto tanto, è un premio che merita molto, è un premio che ha visto il goto della letteratura italiana a Kakuri, ma non solamente a Kakuri, anche questa decisione di portarlo a Catanzaro e a Corotone, magari anche negli anni futuri si porterà anche in altre città della Calabria, perché è giusto che questo premio non vive tutto la Calabria, perché poi quando è un singolo territorio a vincere credo che siamo tutti quanti, tutta la nostra regione vince, perché ecco veramente grazie ancora per quello che stanno facendo a Kakuri, da parte mia ovviamente c'è tutta la disponibilità, c'è stata e ci sarà sempre, sono onorato ovviamente di aver potuto realizzare le torri d'argento che sono date a tutti gli illustri ospiti e ovviamente come Kakuri e come tante altre realtà della Calabria, dove c'è il buono da rappresentare, il bello da rappresentare, Michele Affidato c'è sempre. Come si racconta Gabriele D'Annunzio, il Vate, in una città come Corotone? Beh, D'Annunzio lo si racconta ovunque, nello stesso modo perché è un personaggio universale, che non si è conosciuto in tutto il mondo, è il poeta italiano più cliccato nel mondo dopo Dante su Google e ha parlato della Calabria, la sua definizione di Reggio Calabria, il più bel chilometro d'Italia è sua. A Corotone lo si racconta come lo si racconta agli amici, perché io sono amico dei calabresi e dei crotonesi.